Altro POV sul gladiatore, come vediamo sono arrivato a Sprüchen e mi sposterò verso lo Sprüchenpass ovviamente qua c'è un sacco di vento come sempre in mezzo alle montagne Dovrai girare leggermente a destra tra 800 metri Ma dai! Tra 300 metri, gira leggermente a destra alla uscita 28 Gira leggermente a destra Tra 140 metri, entra nella rotonda, poi prendi la quarta uscita, poi alla fine della strada, gira a destra Prendi la quarta uscita Prendi la quarta uscita Alla fine della strada, gira a destra verso Sprüchen E siamo arrivati a Sprüchenpass Gira a destra Ebbene, iniziamo già con un bel tratto in off-road Ebbene, iniziamo già con un bel tratto in off-road Ebbene, ritorniamo sul nostro POV Intanto si stanno radunando una quindicina di macchine della polizia Prendi la giù Per fare l'incidente che è successo Queste sono strade tutte molto strette E il passo lungo Non aiuta come già Mi hanno detto tutti sul gruppo di Over 200 CV Che saluto tutti E il passo lungo non aiuta Né in off-road Ma neanche nelle curve strette Guarda che bel Si può andare in macchina Ebbene, iniziamo già con un bel tratto in off-road Io quasi quasi Intanto che sono in salita Intanto che faccio il passo E magari molto probabilmente doverò Qualche altra strada Di roccata Gli butto dentro Le 4x4 automatiche Che gestirà lui quando usarle Tipo sa Grazie a tutti. 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 a tutti.